La capitana De Angeli che ha messo una tripla decisiva contro Scafatti, adesso di nuovo contro Venezia dopo aver giocato minuti importantissimi anche a Treviso. Punti importanti ma anche una tua crescita nei minuti che trovi in campo a disposizione del coach? Sicuramente l'importante è il fatto che siamo tre vittorie consecutive in un campionato dove tutte quante stanno facendo punti e si può essere ai playoff oggi e ultimi in classifica la prossima settimana. Quindi questa è la cosa più importante, poi sicuramente è normale che mi faccia piacere essere partecipe di questi successi perché ho lavorato tanto, lavoro tanto quotidianamente e questo è il mio sogno fino a quando sono bambino. Ma se un qualsiasi atleta è in grado di sfruttare delle occasioni c'è qualcuno che deve dargli queste occasioni e quindi sicuramente è merito del coach che con tante alternative, perché in questo momento stiamo giocando tutti bene e il più delle volte si sta fidando e si è fidato di me, quindi la mia è semplicemente una conseguenza delle sue scelte e quindi gli devo sempre qualcosa. Una parola su Michele Ruzier che proprio da Treviso è uscito con una prova di maggiore responsabilità anche offensiva, gli è stato chiesto di essere più pericoloso, ha risposto immediatamente presente e ha replicato alla grande a Venezia. Michele ieri ha fatto una partita da fuoriclasse per quello che mi riguarda perché davanti a lui c'era Spissu che è il primo amico della nazionale e che ha fatto prestazioni pazzesche quest'estate in maglia azzurra e Michele in sostanza se l'è messo nel taschino ieri sera e ha coinvolto tutti quando in campo siamo tutti dentro al gioco e è un leader, è sempre tranquillo nei momenti difficili o meno difficili, si prende responsabilità quando ne abbiamo bisogno e poi soprattutto nelle ultime due partite come hai detto tu è salito in cattedra anche dal punto di vista personale. Ieri ha fatto il Teodosic e ha dimostrato, ha dato ragione a chi dice una cosa semplicissima, nel basket conta il numero uno e il numero cinque, conta il play e il lungo. E' arrivato Luzier e ha ribaltato da così a così Spencer che qualcuno diceva se l'avevano comprato da Mirella, no questo è il triestino che distrugge tutto, questa è una battuta che circolava il prezzetto. Tutti lo davano già con la valigia in mano, abbiamo visto che il giocatore con un playmaker che lo sa valorizzare è venuto fuori. Grazie a tutti.